Un'ultima notizia prima di lasciarvi. Non si voterà più solo nelle scuole. Dal Viminale arriva una circolare diretta ai prefetti per sensibilizzare i sindaci a individuare alternative agli edifici scolastici per le urne nelle prossime tornate elettorali. Si parla di uffici comunali, sale consigliari, biblioteche, fiere, palestre. Una misura già nata per l'emergenza Covid è attuata nelle consultazioni del 20 settembre scorso e che punta ora a non interferire con i tempi della didattica.